La riunione della BCE del 10 dicembre è l'evento più importante della settimana. Christine Lagarde ha un compito impegnativo ed è quello di stupire i mercati. Stupire i mercati le cui aspettative però sono già decisamente alte e contemporaneamente frenare l'apprezzamento dell'euro, la cui corsa potrebbe in qualche modo vanificare, anche se in parte, gli sforzi monetari. Cominciamo allora dalle parole di Christine Lagarde, quelle che ha pronunciato lo scorso 29 ottobre, l'ultimo consiglio direttivo della BCE. In December the governing council, a dicembre, il consiglio direttivo will recalibrate, ricalibrerà i suoi strumenti, its instruments as appropriate, to respond to the unfolding situation, nel modo più opportuno per rispondere alla situazione in divenire e ancora molto incerta. Questa frase era stata la promessa con cui Christine Lagarde aveva lasciato stampa, ma soprattutto i mercati, a fine ottobre in qualche modo rasserenando gli animi e fornendo, ancora prima dei vaccini, il propellente giusto per il recupero degli indici azionari dopo appunto il covid selling, sostanzialmente quello che si era generato appunto nel mese di marzo. E lo possiamo vedere attraverso quest'altro cartello, e cioè l'Eurostoxx 50 nel 2020. Guardate com'è sceso appena dopo, insomma, il momento peggiore della pandemia, e cioè nel mese di marzo, e com'è risalito nel corso dei mesi successivi. Poi vedete 29 ottobre, scritto in giallo, è proprio qui, in questo momento, che l'Eurostoxx torna a salire complice, poi anche l'annuncio di Pfizer del vaccino, che è la candela grande che si è andata a generare il 9 novembre scorso, ma era comunque in una situazione già di ripartenza, di crescita, dal 29 ottobre, giorno in cui appunto Christine Lagarde aveva pronunciato le parole che abbiamo visto poco fa. A questo punto, sostanzialmente, gli investitori attendono al barco, le decisioni concrete della BCE dopo l'annuncio, adesso serve fare qualcosa di importante, qualcosa di appunto concreto, e l'appuntamento non arriva in un momento facile. In primo luogo c'è da assolvere uno dei compiti espliciti della banca, e cioè quello di assicurare una trasmissione efficace della sua politica monetaria. E anche in questo caso non siamo in un momento, come dire, migliore, non è il momento migliore da questo punto di vista per la Banca Centrale Europea. Nel senso che innanzitutto c'è da mostrarvi gli ultimi dati proposti proprio da Philip Lane, che è uno dei membri del Consiglio Direttivo, e cioè sostanzialmente c'è una mancanza di fiducia, ancora fiducia molto debole da parte dei consumatori dell'Eurozona. Eccolo qua, guardate a che punto siamo a novembre, meno 18,7 e siamo molto più vicini ai minimi di aprile, quando la pandemia appunto era nella sua massima espressione, in qualche modo rispetto magari ai valori che abbiamo visto poi nel mese estivo, nei mesi estivi, quando in qualche modo il mondo era tornato a vivere, era tornato a uscire ed era tornato a lavorare, a produrre in generale. Dunque, quando la fiducia dei consumatori è molto bassa, la propensione al credito, la propensione magari a chiedere prestiti, è molto più bassa, insomma, e le condizioni di accesso al credito per il momento reggono male aspettative future, in questo caso delle imprese, e non soltanto, delle imprese europee e dei consumatori appunto sono una contrazione significativa dal punto di vista proprio dei prestiti. Poi c'è il punto per quanto riguarda dell'euro-dollaro, che abbiamo anche anticipato poco fa. Nel mese di novembre si è materializzato, in questo caso, una nuova impennata verso 1,21, partendo da 1,20. Anche in questo caso l'apprezzamento più o meno comincia dal mese di marzo, da quando aveva toccato il fondo. Dopodiché c'è stata una crescita importante e dal 29 ottobre, dalle parole appunto di Christine Lagarde, ecco che ha ripreso un forte apprezzamento dell'euro, in un contesto, c'è da dire, in teoria favorevole molto più all'apprezzamento del dollaro. Perché? Perché la tenuta migliore dell'economia americana avrebbe dovuto essere appunto uno dei fattori fondamentali a favore del biglietto verde. Ma anche le premesse di intervento della BCE che rappresentavano e rappresentano tuttora altrettanti elementi a favore del dollaro. Al contrario, i flussi di investimento a favore del rischio e quindi in direzione di value ed in generale Europa hanno prodotto l'effetto opposto che abbiamo visto in grafico poco fa e cioè la rottura del livello psicologico e tecnico di 1,20. Oggi siamo in una zona superiore a 1,21. Dunque, in un contesto di inflazione sostanzialmente azzerata e di deflazione, di ampia deflazione, soprattutto nelle zone del sud Europa, beh, la BCE è ovvio che non si sente per usare un eufemismo così a proprio agio, insomma, con livello e rapidità del movimento al rialzo. D'altra parte, se vi ricordate, Philip Lane già a settembre aveva detto noi monitoriamo il cambio euro-dollaro e è nostro interesse cercare di mantenere il cambio euro-dollaro basso per favorire ovviamente le operazioni e le esportazioni all'estero da parte dell'Unione Europea. Insomma, tutti questi elementi discussi portano a quello che di fatto deve decidere di fare la Banca Centrale Europea. Secondo molti osservatori, molte, come dire, società di investimento, in primis possiamo citare GAM, Italia, SGR, occorrerebbe che la BCE stupisca i mercati, non l'abbiamo detto anche in apertura, per sostenere l'aspettativa in un contesto che fa ancora molta fatica a risollevarsi completamente, a trovare in qualche modo l'azzeramento delle perdite iniziate nel 2020, appunto con il Covid-Selling. E questi sono gli interventi che sostanzialmente ci si aspetta dalla BCE. Ricordiamo che gli acquisti di bond sono al loro settimo anno, quindi vedremo se c'è la crisi o meno, ma insomma si parla del prolungamento del programma pandemico, del PEP, nell'ordine di 400-500 miliardi di euro fino a fino 2021, quindi un prolungamento fino alla fine del 2021. Poi c'è il prolungamento del reinvestimento PEP fino alla fine del 2023, aste a lungo termine in condizioni favorevoli fino al 2022, la prosecuzione del vecchio programma di bond, che equivale a 20 miliardi di euro al mese, ed è un programma che appunto entra nel suo settimo anno, infine il mantenimento dell'attuale livello di tassi di interesse, ancora più in basso è escluso, questo lo dicono in tanti, che si vada dal punto di vista appunto dei tassi di interessi, che sono già negativi. Questi sono gli interventi in qualche modo attesi dagli operatori, dagli investitori e anche ovviamente dagli osservatori, ma, lo ribadiamo, forse potremmo anche dover aspettarci interventi ancora più forti, ancora più ampi, ad esempio un prolungamento del PEP per una cifra superiore ai 400-500 miliardi di euro, magari non fino a 2021, ma ancora più lontano, diciamo così. Queste potrebbero essere alcune delle valutazioni che potrebbero appunto stupire il mercato per sostenere quello che di fatto è un'economia ancora molto debole, quella dell'Unione Europea e dell'Eurozona, soprattutto a partire dal 2021, e ovviamente mantenendo i tassi bassi, insomma, in maniera accomodante. Vedremo se, da questo punto di vista, Christine Lagarde ribadirà il concetto faremo di tutto per mantenere la stabilità e soprattutto vedremo se tornerà in auge la questione euro-dollare, che come abbiamo visto è uno dei passaggi fondamentali a cui la Banca Centrale Europea è tenuta ed è attesa a rispondere.